Salve, data la complessità dell'argomento, consiglio un video molto chiaro e semplice sulle basi teoriche del motion tracking. In descrizione riporto il link. Consiglio un secondo video, anch'esso estremamente chiaro, che serve più però a soddisfare la curiosità perché si rivolge all'ambito professionale e utilizza il software più potente e conosciuto di compositing che abbiamo attualmente, cioè NUC. E' comunque buono perché può essere usato, i tutorial per NUC possono essere usati per la gran parte anche per Nestron, che invece gira su Linux e è un software open source e che quindi consiglio. Ma torniamo a noi a Sinellerra. I plugin di Sinellerra è quasi un'applicazione a sé istante data alla sua potenza e complessità. Si può tracciare sia traslazioni che rotazioni, anche contemporaneamente. Si può usare per stabilizzare un video traballante, fatto a mano per esempio, oppure per portare il moto rilevato in una traccia, dentro un'altra traccia. I plugin funziona tracciando una regione del frame, il cosiddetto block target, il cui centro ha coordinate X e Y. Poi cerca lo stesso blocco nel frame successivo. Fra tutti possibili sceglie il più vicino e crea un vettore del moto che unisce i due centri del blocco nei due frame. In pratica il blocco scelto è quello che presenta il vettore del moto minore. Per riuscire a considerare il nostro block target sfrutta il suo valore di contrasto e luminosità. Più tali valori sono unici, ripeto unici e caratteristici, più il tracciamento è facile. Se ci sono analoghi valori anche in altri punti al di fuori del target, si può perdere il tracciamento ed avere errori. Si usa il termine master layer per indicare la traccia dove vengano calcolati i vettori del moto, mentre si chiama target layer la traccia dove si applica il risultato del tracciamento. Nulla vieta che target e master siano la stessa traccia, ma è sempre consigliabile la modalità a due passi, perché è più precisa e in definitiva anche più veloce. Si abilita per prima cosa track translation e si disabilita track rotation, per non complicare troppo l'esempio. E poi si spunta draw vectors per vedere i box nella finestra compositore. Magari possiamo aumentare le dimensioni di questa per vedere meglio, visto che le linee di box sono davvero sottili e spesso spariscano. Facciamo l'esempio di voler tracciare un merdo che becca in un campo. Il box più piccolo e interno si chiama blocco di traslazione ed è il blocco target a cui avevamo accennato prima. Si cerca di posizionarlo in modo che comprenda l'oggetto scelto, ridimensionandolo con i pomelli di translation block size e centrandolo con i pomelli block X e block Y, che saranno l'origine dei vettori del moto. La cosa più importante è scegliere un target il più possibile evidente e unico, in modo che non ci siano altri punti con cui può essere confuso. Adesso si può dimensionare il box esterno. Questa impostazione agisce sul frame successivo dove avverrà la ricerca del blocco per tracciare il movimento. Deve essere dimensionato in modo che comprenda tutti i movimenti del blocco di traslazione lungo tutta la clip e non solo del frame che vediamo al momento. Però si deve stare attenti che i lati non finiscano fuori da bordi del frame perché si avrebbero errori inaspettati. Per aiutarci possiamo andare avanti e indietro lungo la time bar per vedere l'effetto. Visto il vettore del moto non deve assolutamente uscire da questo box, viene naturale farlo piuttosto grande anche a costo di aumentare i tempi di calcolo. In realtà se aumento troppo le dimensioni il tracciamento mi salta di continuo, mentre facendolo abbastanza piccolo funziona meglio. Perché questo comportamento contro la teoria? Probabilmente usando un campo di ricerca molto esteso è più facile trovare punti simili al nostro target per cui il programma va in confusione. L'unica soluzione è fare più prove per riuscire ad ottenere la misura migliore. Magari meglio partire dal piccolo e aumentare via via le dimensioni, inoltre è bene diminuire la lunghezza del vettore del moto tramite la manopola Settling Speed, ma questa la vedremo dopo. Se il traballamento del video comprende anche rotazioni, si deve attivare anche Track Rotation e dimensionare il blocco di rotazione interno e il raggio di ricerca esterno. Il principio è simile a quello esaminato finora e non lo ripeterò. Si può capire che il dimensionamento e il successivo tracciamento sono una fase delicata e lunga. Per facilitare questi calcoli si può applicare alla traccia un effetto di Motion Blur che omogenizza i pixel dell'ambiente e magari anche l'istogramma per aumentare il contrasto dell'oggetto. Siccome questi calcoli li facciamo nel primo passo, detto Tracking Pass, cioè sul Master Layer, non dobbiamo preoccuparci che influenzino la qualità del filmato finale. Basterà disabilitarli nel successivo Action Pass, quando trasferiremo i dati del movimento alla seconda traccia, cioè al Target Layer. Una tecnica da professionisti è mascherare gli elementi di disturbo in modo da toglierli dal calcolo. Finita la configurazione di blocchi ed aree di ricerca, si può passare alla configurazione del tracciamento. Si attiva Track Single Frame e si lascia partire dal frame 0, come è di default. In realtà possiamo scegliere il frame base a piacere. Per facilitare la scelta si può cambiare l'unità di rappresentazione della Time Bar in Frame. Il fotogramma da scegliere dovrebbe essere quello che presenta meno movimento considerata la clip intera. Raramente è il frame 0, più probabilmente sarà verso la metà del filmato. Bisogna scorrere e scegliere il frame che ci sembra più adatto. Io però per comodità lascerò lo 0. Con l'opzione Track Single Frame il calco del vettore del moto avverrà sempre fra il frame scelto, lo 0 nel mio caso, e il frame attualmente attivo durante la riproduzione. Così si creano tanti vettori, tutti partenti dalle coordinate del frame 0, prima fra 0 e 1, poi fra 0 e 2, e così via. Per questo viene chiamato vettore assoluto del moto. C'è da capire però che il nuovo vettore assoluto rimpiazza il precedente vettore assoluto, quindi come risultato avremo un solo vettore continuamente rinnovato. Con questa modalità possiamo iniziare il tracciamento del moto da qualsiasi fotogramma, proprio perché non c'è collegamento ai precedenti fotogrammi. Può essere utile utilizzare un fotogramma a circa metà sequenza, per esempio se vogliamo tracciare un oggetto che si sposta da sinistra a destra e poi da destra a sinistra, scegliere il frame mediano significa usare una box esterna grande la metà, perché il vettore del moto sarà anch'esso la metà, visto che parti da un'origine nel mezzo delle due estremità raggiunte. Inoltre, lo apriremo meglio dopo, l'opzione settling speed non ha influenza su questo tipo di tracciamento. Se abbiamo un video in cui l'oggetto da tracciare è unico, piccolo e ben definito, e per di più compare in tutti i frame del video, è sicuramente l'opzione migliore da usare, perché la più precisa. Se invece abbiamo un video con grossi traballamenti e magari contenente anche zoomate panoramiche, cioè grossi movimenti di macchina, allora è meglio scegliere l'opzione track previous frame, che invece costruisce il vettore del moto comparando due frame consecutivi, quindi in successione avremo il vettore fra 0 e 1, poi fra 1 e 2, fra 2 e 3 e così via. Considerando il vettore 0 e 1 come vettore assoluto, quando passiamo al frame 2, dovremo sommare tale vettore assoluto al vettore 1 e 2, per ottenere il nuovo vettore assoluto. Via via otterremo sempre un nuovo vettore assoluto da sommarsi al vettore appena calcolato. Si apisce Pro che in questo modo è necessario far partire il tracciamento sempre dal fotogramma 0 per poter accumulare tutti i successivi vettori. Sempre nel caso di video complicati, ma indirizzati alla stabilizzazione e non al tracking dell'oggetto, si può usare Previous Frame Same Block, che dopo aver calcolato il vettore del moto di frame in frame come nel caso precedente, viene sottratto per mantenere il blocco target nella posizione originaria. Mamma mia che confusione sto facendo, spero che per voi sia tutto chiaro. La voce Master Layer permette di indicare quali fra la pila di tracce che condividono il plugin del Motion Tracker sia da resinerse il Master Layer. Se scegliamo di default sotto, allora la traccia inferiore sarà il Master Layer e quella superiore il Target Layer, altrimenti il contrario. Vale anche se abbiamo più di due tracce, la condizione necessaria è solo l'avere l'effetto in comune, anche Shared. In realtà possiamo usare anche una sola traccia, in questo caso Target uguale Master. Nel menu a tendina Action, invece, possiamo scegliere fra la Stabilizzazione, che compensa il moto per renderlo più stabile, e il Tracciamento, per seguire il movimento del blocco scelto in modo sincronizzato. Si può arrivare alla precisione del singolo pixel o del sub-pixel per tutte e due le voci. Infine, nel menu a tendina Calcola possiamo scegliere fra diverse opzioni. Non calcolare, serve per disattivare il tracciamento. Ricalcola, serve per attivare il tracciamento secondo la modalità indicata in Action. Salva e Carica eseguono il tracciamento come in Ricalcola, ma in più salvano risultati in un file temporaneo per poterli richiamare in una fase successiva. Serve per esempio nel Tracking a due passi. Restano da spiegare poche altre funzioni della finestra di configurazione. Iniziamo dal Translation Search Steps e l'analogo Rotation Search Steps per la rotazione. Idealmente il tracciamento dovrebbe calcolare la nuova posizione del blocco target ricercando ogni pixel dell'area di ricerca impostata. Scansionare ogni singolo pixel però è troppo lento e oneroso per il PC. Quindi viene usato un algoritmo che suddivide la regione in sottoregioni, poi ancora si suddivide in altre sottoregioni e così via, circoscrivendo sempre di più la zona di ricerca e di calcolo. Possiamo decidere i passi di questa serie impostando il parametro Translation Search Steps. Seguendo questa via si può comunque arrivare alla precisione di calcolo delle coordinate fino al singolo pixel o addirittura un quarto di pixel, solo però se ci si arriva entro il numero dei passi che abbiamo impostato. Se così non avviene il calcolo sarà meno preciso. Ovviamente un filmato già stabile o con movimenti lenti e lineari non richiede un numero alto di passi e tutto il processo di tracciamento sarà veloce e leggero sulla CPU. Aumentando il numero dei passi si aumentano i tempi di calcolo ma è più probabile rimediare a video piuttosto mossi. I concetti espressi per la traslazione valgono anche per le rotazioni quindi le impostazioni sono simili anche se in verità gli algoritmi sono diversi. Provo adesso a spiegare il Maximum Absolute Offset Riguarda la percentuale di movimento rilevabile nel fotogramma. A 100 non c'è il limite al movimento registrabile viene usata tutta l'area del frame. Con valori minori si crea uno sbarramento che limita la rivelazione a quella soglia da noi scelta. In pratica limita la zona del frame in cui eseguire la ricerca. A cosa serve lo vedremo fra poco. Settling Speed Riguarda i vettori del moto Come già detto questi vengano accumulati e poi sommati per creare il vettore del moto assoluto. Si è già visto ci sono due modi di calcolo del vettore assoluto ma l'influenza del Settling Speed è solo per la modalità di tracciamento Track Previous Frame che riguarda i due frame consecutivi. In questo caso se diminuiamo il parametro del Settling Speed il valore assoluto calcolato viene moltiplicato per questo numero e quindi risulterà ridotto e solo dopo verrà assolmato al vettore del frame successivo. Il risultato è che il vettore del moto risulterà più piccolo così sarà più difficile che oltrepassi i confini del box di ricerca minimizzando gli errori. Questo infatti è un caso normale per video che soffrono di bruschi sobbalzi o se si cerca di tracciare un oggetto che si muove veloce. A cosa serve impostare questi due parametri? Non ne sono proprio sicuro ma penso che riducendo la lunghezza del vettore e limitando il tracciamento entro una certa soglia porta a diminuire l'effetto di rilevazione del moto. Infatti usando per esempio la stabilizzazione su un filmato molto mosso e impostando al massimo il calcolo del tracciamento nel video risultante verranno fuori delle bande nere molto grandi. Queste vengano fuori sempre altrimenti il video non sarebbe mosso ma basta un leggero ingrandimento nella finestra camera o altri accorgimenti per nasconderle senza influire troppo sulla visione. Se invece le bande sono molto grandi dovremo ingrandire molto perdendo addirittura la geometria originale del progetto insomma si otterrebbe un franco bollo di immagini sgranato. Bisogna allora cercare un compromesso fra la stabilità ottenuta e l'invadenza delle bande nere. Questo si fa tramite il comando Settling Speed e il valore di Offset massimo. Di default Settling Speed è impostato ad un valore vicino al minimo cioè 5 mentre l'Offset è impostato al valore massimo cioè 100. Bene, ci interrompiamo qui con la teoria nel prossimo video vedremo qualche esempio pratico. Settling Speed